Il bello di Accademia è questo, che sa tirar fuori da ogni persona la propria personalità, ma soprattutto le proprie predilezioni, le proprie capacità. La prima impressione è stata l'impressione di serietà, dove è stato presentato un piano che prevedeva delle lezioni in aula, uno stage formativo e la possibilità poi di intraprendere una carriera nel mondo lavorativo. Grazie per la visione!